Cari amici di Caffeina, buongiorno! All'Isola dei Famosi è quasi scoppiata una rissa tra due concorrenti e sono volate parole molto forti. Parliamo del noto speaker di Radio 105, Marco Mazzoli, e del cantante dei Jaliss, Fabio Ricci. Mazzoli procede con le nomination e fa il nome di Pamela Camassa e di Fabio Ricci, che non la prende per niente bene. Hai detto in diretta che ci sono stati degli screzi tra di noi quando in realtà, dopo un battivecco, sei tu che mi hai chiesto scusa e mi hai dato pure un abbraccio. Queste le parole del cantante allo speaker. Marco cerca di spiegare a Fabio che si trovava in una situazione difficile e non sapeva che dovesse fare una seconda nomination. Il cantante però non vuole sentirne e continua ad insultare Marco, dandogli dell'infame, del falso, del principino e del baronetto. L'abbraccio di Giuda, dice. A quel punto Mazzoli si infuria e risponde a tono. Io tutti i soldi che ho me li sono guadagnati da solo. Tu hai rotto le scatole da quando sei entrato e ora non ti sopporto davvero più. Ti voterei in questo momento. Anzi, godo se sarai tu ad uscire. Sei un rosicone. Volevi essere immune? Pensavi di vincere? Sul contratto c'è scritto che devono vincere i Jaliss. Insomma, Fabio, non svegliamo il can che dorme. Alla prossima. Ciao.